Ne ho sentite tante prima di questa partita, sentite tantissime, il Chievo è una bella squadra con le grandi, è appareggiato con l'Inter, è appareggiato con il Napoli, quindi la Juve faticherà e non poco a portare a casa il risultato, cazzate, cazzate, questi non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, 3-0 tondo tondo a casa, non ce n'è per nessuno. Con una facilità disarmante, con una facilità disarmante, il Chievo non ha fatto nulla, 0, forse al 65esimo con colpo di testa con Meggiorini, se possiamo chiamare l'occasione quella là, chiamiamo l'occasione, 0, 0, 0, spietati. Da Juve quest'anno farà tranquillamente 100 punti, quanti ne ha adesso, quanti ne ha adesso, quanti ne hanno, ho perso il conto, ho perso il conto, vediamo un po' la classifica, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', 56, 100 punti, adesso ho 56, 100 punti, proprio tranquilli, proprio tranquilli, non ce n'è, può mettere, può mettere chiunque e fa la sua bellissima gara, può mettere chiunque, può giocare Bernardeschi, può giocare Can, può giocare D'Agrascosta, può giocare chiunque, può giocare Rugani, può giocare De Sciglio, può giocare Perin, possono mettere chiunque, possono mettere, cambiando, come si dice, l'ordine dell'Aldendi, il risultato non cambia, vittoria, win, stop, mamma mia, mamma mia, mamma mia, di un altro, di un altro livello, di un altro livello c'è poco da fare, e veramente, veramente, che dire, che dire. Andiamo un po' sui singoli, mi è piaciuto tantissimo D'Agrascosta, io lo adoro come giocatore, ha un'esplosibilità innata, forse, anzi, le avrei forse sicuramente anche più di Ronaldo, un'esplosibilità che, un dribbling pazzesco Ronaldo, vabbè, forse stasera Ronaldo, proprio zero, stasera ha fatto pietà Ronaldo, però, in condizioni normali, in quanto a dribbling, io voto D'Agrascosta, perché veramente, ti salta con una facilità disarmante, poi, ovviamente, Ronaldo ha tantissime virtù, ha una qualità immensa, ma nell'esplosibilità D'Agrascosta, micidiale, micidiale, può stasera pure trovare un gol pazzesco, bellissimo, quindi D'Agrascosta, top, è un giocatore, è un giocatore che mi va di citare, che mi va di citare, perché ultimamente è stato un po' accantonato, perché? Perché non segna, perché non segna, perché gioca più dietro, ed è Dybala, Dybala è un giocatore veramente maturo, adesso che è un giocatore veramente maturo, nessuno ne parla, perché fa un lavoro incredibile per la squadra, l'ho visto attentamente stasera, fa un lavoro incredibile, fa addirittura, spesso proprio il centrocampista puro addirittura, spesso lo fa, scende addirittura sotto la tre quarti, spesso, e fa veramente il centrocampista giunto, e lo fa bene, perché con i piedi è fantastico, trova sempre il passaggio giusto, ha una visione incredibile, a dribbling, ha agilità, ha scatto, è un giocatore totale, è un giocatore totale, mi piace, mi piace, e vabbè, Dybala è forte, lo sapeva, però veramente, solo perché adesso magari non sta segnando, giustamente gioca dietro, magari se ne parla un po' poco, qualcuno avevo sentito dire, ma Dybala è calato, Dybala non è calato niente, Dybala è maturato, dal mio punto di vista, è maturato, è veramente maturato, e se giocasse punta, se giocasse avanti, farebbe anche i gol, perché Dybala fa tutto, e poi basta, che vogliamo parlare, sono tutti forti, sono tutti forti, tutti possono trovare la giocata, lo stesso Bernardeschi, partitone, che vogliamo, che vogliamo parlare, che vogliamo aggiungere, questa è una squadra, l'ho già detto, arriverà tranquillamente con cento punti all'attivo, una squadra che parte sempre dall'1-0, perché ogni partita ha sempre trovato almeno un gol, ah, l'ultima cosa, l'ultima cosa, proprio per chiudere, dall'altra parte, Sorrentino, Sorrentino ha 40 e rotti anni, professionalità, non lo so, che portiere, che portiere, è l'incubo, è l'incubo di Ronaldo, perché all'andata veramente gli ha parato persino la cacca, e è qui al ritorno ancora, ancora, praticamente, ancora, gli ha parato un rigore, battuto bene da Ronaldo, secondo me, è vero che i rigori, se li batti perfetti, devono essere per forza, ma battuto bene da Ronaldo ha fatto un paratone, mamma mia Sorrentino, complimenti a questo portiere, poi spesso si dice, noi interisti diciamo, ma solo con noi Sorrentino, no, no, Sorrentino, tanto di cappello per questo portiere, tanto di cappello, l'incubo di Ronaldo, Sorrentino, perché veramente quando gioca contro i tuoi non trova i goller, e fa, vabbè, all'andata ha giocato bene Ronaldo col Chievo, però stasera veramente poca roba, vabbè, non c'è altro da dire, fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi, sotto, commentate, like, iscrivete, fate quello che vi pare, dai che stiamo per arrivare a 24.000, grande traguardo, vi ringrazio sempre, e io, come al solito, ve lo dico, forza Inter, amala sempre, e comunque, ciao aglio, un abbraccio da Neschio. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.